Approvata la mozione del consigliere regionale dei Verdi Sandro Bisogni contro la tecnologia di comunicazione 5G che nell'ambito della telefonia mobile risulta essere la quinta generazione successiva rispetto a quello di quarta. Una delle caratteristiche principali di questa rete è quella di permettere molte più connessioni contemporanee fra i device con alta velocità arrivando fino a 10 GB per secondo a tempi di risposta molto rapidi. La nuova rete di sperimentazione dal 2017 potrebbe causare potenziali rischi per l'uomo. Si legge in una nota diffusa dal consigliere che il 5G opererà su frequenze più elevate rispetto a quelle finora utilizzate dai sistemi di radiotelefonia e renderà necessarie l'installazione in area urbana di numerosi ripetitori con aumento inevitabile della densità espositiva. Intanto cresce le preoccupazioni di molti sindaci italiani e aumentano le sentenze che riconoscono la correlazione tra elettrosmog e cancro quando ci si trova esposti a una condizione cumulativa di frequenze. Il consigliere regionale De Verdi attraverso la sua mozione ha applicato il principio di precauzione a fronte della decisione di sperimentare in Italia la nuova banda su 4 milioni di italiani senza autorizzazione preventiva di alcun comitato etico. Lo scopo della mozione impegna giunte il presidente regionale a lanciare una campagna di informazione pubblica affinché i cittadini siano messi al corrente dei rischi che corrono utilizzando i cellulari in modo inappropriato. Perché non installarlo? Sì dai, io sono pro. Anche gli effetti possono creare anche degli effetti sulla salute? Sì dai, adesso non lo so ma non credo sia una cosa così grande. Quindi bisognerebbe sempre più sviluppare la tecnologia? Io sono sempre a favore dello sviluppo della tecnologia, chiaramente compatibilmente con quelle che sono poi valori etici, valori sociali. Sul 5G non sono così tanto informato anche sugli effetti della salute però non penso che ci siano così grandi controindicazioni insomma quindi sono molto a favore. Si può fare? Secondo me sì, tanto siamo passati dal 3G al 4G perché non dovremmo passare al 5G. quindi ci stiamo migliorando a livello di linea fissa anche a livello mobile dai. Quindi agevolare sempre di più la tecnologia? Sì è giusto, è giusto. Non dovrebbe cambiare. Perché già abbiamo il 3G, il 4G appunto attivi. Basta e avanza. Adesso non lo so questo 5G se può essere conveniente oppure no, ma staremo a vedere adesso. Intanto ci tuteliamo un pochino, forse un attimo ci freniamo e poi si vedrà insomma, ma poi ci adegueremo sicuramente. Ultimo impegno contemplato nella mozione riguarda l'ARPAM, chiamata a rilasciare pareri sulle installazioni con tecnologia 5G e acquisire preventivamente le indicazioni delle autorità sanitarie competenti sui relativi rischi possibili per la salute della popolazione.